Così si è svolta nella città universitaria la giornata di blocco della didattica indetta dal senato accademico. A chimica un ricercatore ha scelto di fare lezione con tanto di lavagna sulle scale del rettorato, diverse ore di spiegazione di chimica organica, alle quali gli studenti non si sono sottratti. Anzi, l'iniziativa del chimico è stata accolta con piacere, nonostante il sole sulla fronte. Professore, ma lei sta aderendo a questa protesta contro la 133? Ci arrivano tagli indiscriminati che poi ci compromettono il fatto di poter fare ricerca, che ci impediscono poi di fare una didattica di qualità. Noi allora forse vogliamo un attimo dire, oh, un attimo, noi i corsi aggiuntivi non li facciamo più. Oggi fermo della didattica, qui è la Savienza. Voi di chimica cosa avete organizzato? Oggi abbiamo organizzato anche una serie di lezioni all'aperto che si sono tenute e sono appena terminate, lì al rettorato come forma appunto di protesta. Lezioni di fisica nelle piazze romane e nel dipartimento occupato, assemblea tra pochi, e un fantoccio che impicca la 133. A scienze politiche invece l'assemblea gremita di studenti per spiegare i tagli di Tremonti ai colleghi meno informati e per stilare un piano d'attacco per i prossimi giorni. Oggi quindi prosegue questa mobilitazione, in questo momento c'è un'assemblea dove si sta discutendo di come si proseguirà la mobilitazione la prossima settimana. A lettere invece il dibattito è durato una mattinata. In Aula 1, in mezzo a sacchi a pelo e zaini di chi in cui l'Aula ci passa la notte già da giorni, prima a parlare il Preside Roberto Antonelli, che ha voluto dare un segnale forte di solidarietà. Non è vero che gli effetti di questa manovra si vedranno dal 2011, ma avranno effetto fin da subito, ha detto, non mancando di criticare certa stampa che ha parlato di baroni rossi all'università. A medicina invece si è volantinato per le vie del policlinico, mentre a giurisprudenza tutto tranquillo, perché le lezioni ancora non sono iniziate per quest'anno. Ad economia e psicologia, momenti di riflessione e confronto con docenti. In tutte le facoltà non è mancata la rassegna stampa di questi giorni, perché quello che si vuole è che sia chiaro a tutti ciò che sta accadendo agli Atenei italiani. E su molti muri esterni sempre lo stesso articolo, contenente le dilaranti affermazioni di un uomo che è stato il nostro Presidente della Repubblica, Francesco Cossiga. Studenti e docenti andrebbero picchiati a sangue, ha dichiarato.